andavamo in 30 mila dentro no adesso si posso chiedere cosa è successo o meglio a quei spalle meglio a un danno visto che di solito si attacca qui c'è capire se ero un po' più democratici Cristo cioè rispettare tutti gli altri cazzo io sono tirolese Cioè, per bene i barriari ti danno la voce. Fuori fascisti da questa piazza! Fuori! Fuori fascisti da questa piazza! Fuori! 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 Non ci avete ripetato niente. Niente! In questo città non ci avete ripetato veramente niente. Niente! Ma zero! Finita! Fuori fascisti da questa piazza! Chi ci ha lottato di là lo sapete? Chi ci ha lottato di là? Lo sapete? Ci hanno lottato i partigiani 70 anni fa, e voi siete tutti i saluti. Let andate a loro per la resistenza! Andate via! È una provocazione! Via! Andate! Via! Sei un razzista pronto! Vai via! va bene ragazzi ok andate a servire i padroni andate via in formale andate via andate via andate via andate via andate via a casa a casa a casa a casa a Bologna non c'è il castagnetto con voi zero ricordatevi il piazza Loretto figli di bottara ma che stai tu ma che stai tu ma che stai tu ma che stai tu ma non andate per tessuti dovete cacciarvi a gente sono quelli che dovete cacciarvi dove andate così dovete cacciarvi a quelli ma sempre non è fascista in me ma questo è come con me ma che stava a te a coglione a cista a casa a casa a casa a cista a forza e cosa è un assolo è un assolo amico sempre proteggo ma non aspetto anche io ce ne devo resta guardo ma che stai abbiamo un pezzo a ieri 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 a ieri buro ieri 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.